Immaginate se per un giorno tutti gli immigrati dell'Unione Europea smettessero di lavorare. L'economia dei 27 paesi dell'Unione Europea collasserebbe. Lo ha dichiarato il commissario europeo agli affari interni Cecilia Malmström pochi giorni fa. Esoltolinea come in un periodo di austerità l'immigrazione non è parte del problema ma piuttosto parte della soluzione per la ripresa dell'economia nell'Unione Europea. Ma c'è un problema, un problema che in Abruzzo si è cercato di superare con il progetto Sì, Scuola d'Italiano, percorsi integrati di lingua e cultura italiana in Abruzzo. Per far conoscere i diritti ma anche i doveri di un cittadino che risiede nel nostro paese noi l'abbiamo promosso, Fondazione Mondo Digitale, avendo come capofila la regione Abruzzo e i 7 CTP utilizzando delle tecnologie innovative, utilizzando il multimedia, delle videolezioni e gli immigrati possono frequentare i corsi di italiano presso i CTP anche i corsi di educazione civica e approfondire così anche tutti i contenuti dell'accordo di integrazione. Perché quello è il gap principale da superare? La regione Abruzzo ha voluto promuovere questo accordo di collaborazione tra tutti i soggetti che nella regione Abruzzo seguono l'integrazione dei cittadini immigrati proprio una cooperazione volta ad aiutarli per avere un'integrazione più rapida in questo territorio sia conoscendo appunto le opportunità che tutte le istituzioni del territorio offrono ma anche frequentando corsi di italiano, di educazione civica, una rete territoriale a supporto dell'integrazione. Il progetto Si Scuola di Italiano è finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi e promosso dalla regione Abruzzo in collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale e i centri territoriali permanenti di Avezzano, Nereito, Pescara, Popoli, Silvi e Sulmona. L'Abruzzo ha una grande risorsa che è l'imprenditoria, c'è una forte percentuale di imprenditoria extracomunitaria e dare a questi nuovi cittadini tutti gli strumenti per far crescere anche la loro attività in questo territorio un'opportunità di crescita del territorio stesso.